mister archiviata la finale di coppa ritorno al campionato come arriva la squadra all'appuntamento di domani. Arriva carica perché tutto sommato analizzando anche la partita contro il Teramo abbiamo fatto una buona gara la squadra la vedo abbastanza motivata sappiamo che adesso dobbiamo cercare di pensare a noi stessi di fare quello che dobbiamo fare e poi senza fare corse con gli altri perché adesso l'obiettivo è cercare di fare il meglio possibile sicuramente incontreremo una squadra che ha cambiato allenatore anche loro motivata ma per noi dobbiamo sfruttare adesso tutte le gare sì ma noi dobbiamo trovare la nostra identità non dobbiamo come ho detto i ragazzi è normale che a livello di concentrazione e di preparazione la partita con il Teramo si prepara da sola sono queste le partite più importanti sono partite dove hai tutto da perdere nulla da guadagnare perché però adesso al di là dell'avversario noi dobbiamo pensare a noi stessi a fare quello che dobbiamo fare poi quello il risultato che verrà verrà ma basta fare le corse con gli altri dobbiamo solo pensare partita in partita a noi stessi a fare le corse con gli altri dobbiamo fare le corse con gli altri dobbiamo